Ciao a tutti ragazzi e forza Juventus. Io lo so che oggi è più difficile, oggi è più complicato, oggi si farà veramente molta fatica a concentrarci su quello che deve essere l'appuntamento principale della giornata e cioè un last Juventus che andrà a spiegarci un pochettino se alla fine potremmo anche solo sperare di poter andare a giocarci una coppa perché ovviamente anche arrivando in finale oggi non hai risolto niente ma ti dai un'opportunità. Però oggi il mondo dello sport in Italia parla di una sola tematica, giocare una semifinale di Coppa Italia e il giorno dopo uno scudetto dell'Inter è molto dura, è molto difficile, è molto complicato. Ve lo dice uno che dopo che ha chiuso il video post partita ieri sera si è messo così e ho guardato il soffitto per mezz'ora abbondante, forse anche qualcosina di più. in preda non alla rabbia ma nemmeno alla delusione, non saprei neanche dirvi che sensazione e che emozione è stata, sono solo che ero triste, triste perché me ne ero già messa via, no? Io sapevo che alla fine l'avrebbe vinto l'Inter, questo scudetto ne ero assolutamente consapevole, sapevo che erano più forti, sapevo che tra noi e loro c'erano almeno una decina di punti di partenza per via di rose che secondo me erano differenti. Ritrovarmi a 22 dopo essere stato a meno due per una gran parte della stagione mi fa arrabbiare, mi preoccupa più che altro, mi preoccupa perché io credo che la Juventus abbia veramente steso un tappeto rosso all'Inter e questa è la cosa brutta e preoccupante. La Juve ha messo lì e ha detto andate pure avanti, non è un problema, noi ci siamo completamente arresi quando in realtà l'unica cosa che dovevamo fare era almeno rompere i maroni, noi dovevamo davvero essere quelli che rompevano i maroni, invece no, non siamo stati in grado nemmeno di rompere le palle. Perché ci siamo arresi? Perché ci siamo tirati indietro? Perché non ci abbiamo creduto più? O forse mai? O forse qualcuno sì, o forse qualcuno no? Purtroppo ieri sera ho avuto una botta forte di tristezza non per lo squelto dell'Inter ma pensando alla situazione globale e cioè che noi in questo momento qui ci stiamo leccando le ferite mentre gli altri festeggiano ma in realtà dentro la Juve ci stanno raccontando che va tutto bene perché tanto l'importante può arrivare in Champions. Attenzione, non mi riferisco solo ad Allegri, non mi riferisco solo ad Allegri perché questa cosa qui l'abbiamo sentito dire anche da parte di John Elkan e da parte dei dirigenti. Sì, ora va bene tutto, però se non si inizia con una solida autocritica e con una sorta anche di critica costruttiva, davvero critica costruttiva, un pensiero critico, un ragionamento critico su quella che è la situazione, guardando gli altri che vincono e noi che ci diciamo sì sì ma sai noi in realtà chi se ne frega guarda ti posso garantire che a noi non gli interessava perché a noi interessava soltanto l'obiettivo economico no, la Juventus è, rimane, era e rimarrà una società, una squadra di calcio che ha degli obiettivi sportivi, questo è quello che mi preme e purtroppo mentre a Milano Sponda Nerazzurra festeggiano noi facciamo tutt'altro tipo di ragionamento e per tornare a vincere devi ricominciare a ragionare come quelli che vogliono vincere, se no non accadrà perché non andrai mai a fare il passettino in più ti accontenterai di aver fatto il passo, non serve arrivare fino in fondo, l'importante è anche solo avvicinarsi perché tanto poi quello non era il nostro obiettivo no, dobbiamo ripartire da qui, da questa mentalità qui, vincere non è importante, è l'unica cosa che conta nel senso che devi dare tutto te stesso per arrivare alla vittoria, devi dare quel centimetro in più quella corsa in più per il compagno, quella lettura in più, l'intelligenza, quella roba lì serve quella roba lì è la base dello sport e della vittoria nello sport perché tutti giocano per vincere, o almeno dovrebbero questo è quello che mi sento di dire e dato che stasera affrontiamo una partita di eliminazione diretta dove abbiamo la possibilità di tornare a vincere un trofeo ecco non vedete quel trofeo come uno scudetto, una Champions League perché non ci si avvicina neanche vedetelo come la prima grande possibilità di tornare a riassaporare una vittoria anche perché non prendiamoci in giro, le squadre che sono rimaste dentro la Coppa Italia non sono squadre di primissimo livello oggi la Juve può assolutamente pensare di alzare questo trofeo ma per farlo deve smetterla, smetterla di prendersi in giro dicendo che va tutto bene dopo 12 punti in 12 partite questo deve fare la Juventus e cominciare a pensare che le partite vanno vinte sul campo e se anche stasera si è in vantaggio di due gol perché all'andata la Lazio nel secondo tempo è implosa e tu hai fatto due gol con Chiesa Vlaovic te ne devi fregare devi andare in campo e cercare di fare quanto di meglio possibile per vincere 2, 3, 4 a 0 questa partita non andare in campo pensando ma sì dai ho due gol di vantaggio finché non me ne fanno due comunque passo io perché questo sarebbe l'errore più grande perché la Juve deve riabituarsi a far fatica per raggiungere l'obiettivo per quello vi dico nel giorno dello scudetto dell'Inter giocare una partita è difficile ma deve anche essere il motore per tornare a ragionare da Juventus se questa roba ai giocatori non dà fastidio c'è un grosso problema non sono fatti per giocarne la Juventus io stessero voglio vedere i giocatori che vanno in campo arrabbiati col mondo se tanto è vero che questo crollo psicologico perché ci credavamo troppo siamo allontanati e quindi poi non ci siamo più riusciti ecco allora avete visto cosa ha portato questo crollo che nella giornata in cui noi dobbiamo ragionare su il passare un turno di copietà gli altri festeggiano allora scendere in campo con la rogna nel cuore la rogna nel cuore bisogna avere stasera mangiarsi ogni centimetro d'erba perché di là da Lazio di Tudor è una squadra che non è ancora per forza di cose specchio perfetto del suo allenatore è una squadra che però ha vinto contro di noi ha vinto contro la Salernitana 4-1 e ha perso il derby con la Roma e ha perso contro di noi in Coppa Italia quindi è una squadra che in questo momento anche dal punto di vista del risultato è altalenante ma è una squadra che in questa Coppa Italia secondo me ci va a mettere tanto di questa stagione cercherà di arrivare in finale in casa cercherà di metterci sotto perché sa che può riuscirci perché sa benissimo che questa Juve può vincere contro pochi e perdere contro tutti quindi ci proveranno se noi andiamo lì col pannolone forti dei nostri due gol di vantaggio abbiamo finito prima di iniziare la parola abbiamo finito prima di incominciare dobbiamo andare lì arrabbiati perché se l'Inter festeggia con 5 giornate d'anticipo sapete di chi è la responsabilità nostra nostra con la consapevolezza che siamo stati attori non paganti negli ultimi due mesi e mezzo se non tre è che abbiamo facilitato il tutto all'Inter verso questo nuovo scudetto conquistato se ai giocatori va bene così e stasera scendono in campo belli, tranquilli, sereni e rilassati allora abbiamo un problema grosso se non enorme che non si risolverà alla fine della stagione con un cambio in panchina perché bisogna avere il nervoso bisogna essere arrabbiati se mancano queste componenti fondamentali bisogna ricominciare tutto da zero serve una bella tavola rasa forza Juventus